ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video io sono rino youtube ed oggi vi mostrerò come creare delle luci che si che si accendono la notte si spengono il giorno vi volevo dire che queste luci sono molto belle per le strade infatti io qua vi farò vedere un esempio per le strade qui infatti come potete vedere ho creato una strada una strada piccolina che porta alla nostra casa che l'ho fatto un video tutorial su questa è andata a vedere se non l'avete visto quindi iniziamo allora siccome io vorrei fare dei tipo di rampadari utilizzo utilizzerò delle staccionate ma poi anche non le potete utilizzare vi serviranno solamente delle lampade delle lampade di pietra rossa e un sensore di luce di orna allora se noi tipo andremo a mettere qui per fare i nostri pali mettiamo sopra la luce di orna la lampada di pietra rossa e mettiamo qua come potete vedere si accenderà ma se noi clicchiamo su il sensore di luce di orna si spegnerà e poi e poi la notte si accenderà e poi la notte la poi la notte far accendere la la luce adesso farò tutta tutta la strada è riempita da da queste luci e poi vi farò vedere come viene il risultato ecco quindi ci vediamo fra un poco che ragazzi questo è il risultato per la nostra strada ovviamente voi la potete fare come volete potete anche mettere queste queste luci non so anche dentro la casa ma non sono ci ho provato raga se funziona non so tipo come potete vedere qua la nostra strada se tipo ora noi andiamo a mettere qua notte come potete vedere si accenderanno automaticamente e questo questo questa cosa è davvero una cosa molto bella per decorare la le nostre strade non so ovviamente raga vi ricordo che dovete cliccare una volta su la il sensore di luce o se no non si accenderà la notte ma si accenderà solo la nella luce solo quando il giorno quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lasciato un like iscriviti al al mio canale ciao